Mi chiamo Alessandro Roccati e sono uno degli egittologi che sono stati accolti nell'ambito dell'Accademia delle Scienze e ho scelto di parlare del tempo presso gli antichi egizi per un motivo, perché a parte la scrittura di cui Champollion è il riconosciuto decifratore, uno degli altri argomenti che hanno maggiormente intrigato e appassionato e sono più ricchi di spunti di quella civiltà è senza dubbio la misurazione del tempo. Misurazione del tempo che trova accoglienza presso un popolo, un mondo che risulta più antico di quanti altri si abbiano fornito degli spunti come i cinesi o i caldei e anzi questo studio si trova proprio all'inizio dell'Egittologia, quando fresco del suo viaggio di documentazione in Egitto che fece Champollion nel 1828, non pago di quello che naturalmente aveva già trovato a Torino, egli si unì ad un celebre fisico e astronomo del suo tempo, Jean-Baptiste Bion, il quale era interessato ad acquisire il massimo numero di documenti su questo tema, sul tema della misurazione del tempo. Quindi si fece dare da Champollion il massimo delle informazioni che questi potrebbero trovare nel suo viaggio in Egitto. Purtroppo il lavoro di Champollion è andato perduto, mentre invece la memoria che fu poi pubblicata a cura di Biot, memoria che egli riferì nel 1831, esattamente 190 anni fa, il 30 marzo all'Accademia delle Iscrizioni e il 4 aprile invece all'Accademia delle Scienze di Parigi e una coppia significativamente la spedì all'abate Costanzo Gazzera che era il segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze e che era stato tra quelli che avevano accolto Champollion alla sua prima venuta a Torino. Questo lavoro documentato è molto ricco di spunti e il punto d'avvio di ricerche che sono da allora stati incessanti e tra dubbi che continuano a persistere hanno ugualmente aperto delle prospettive che non erano prevedibili. Vediamo il frontespizio del volume con la dedica all'abate Gazzera che è nel possesso dell'Accademia delle Scienze ed ecco una carta dell'Egitto. La carta dell'Egitto è importante per la sua conformazione naturale. Questo paese si estende praticamente in linea retta da nord a sud con una grande differenza di latitudine tra i punti di osservazione che possono essere collocati sul mare Mediterraneo che vediamo l'ubicazione di Alessandria oppure all'apice del delta dove partono le diramazioni del Nilo e della città di Menfi con le sue piramidi o ancora più giù invece alla prima cateratta, qui siamo al tropico dove si trova la città di Aswan che era naturalmente un punto di osservazione importante di quel fenomeno straordinario che interessa soprattutto l'Egitto in modo singolare e con un'ampiezza che oggi non è più osservabile dopo i lavori fatti per bloccare il flusso dell'acqua che fu l'inondazione. L'inondazione che tutti gli anni in misura maggiore o minore partendo dal sud da distanze remote per quei tempi e per fenomeni che avvenivano un punto nel centro Africa portava in Egitto una massa d'acqua tale da ricoprirne la superficie agricola, da bonificarne il territorio e da produrre un'enorme ricchezza alimentare. Questa situazione dell'Egitto insieme all'osservazione dei fenomeni celesti fu fondamentale per l'elaborazione del calendario e della misurazione del tempo. Quando si costruirono le piramidi, stiamo parlando di 4.500 anni fa, gli Egizi avevano già perfezionato il loro sistema di scrittura e anche elaborato un metodo perfetto per la misurazione del tempo. Però questo risultato era il punto d'arrivo di osservazioni compiute già da migliaia di anni e che avevano preceduto di gran lunga la stessa civiltà dei faraoni, la civiltà egizia. E si fondava su osservazioni celesti e terrestri condotte a diverse latitudini nella valle del Nilo. Queste osservazioni cercarono subito di trovare dei riferimenti anche nello stesso funzionamento dell'essere umano con connessioni che erano altamente speculative e di cui oggi vedremo alcuni esempi. Partiamo dal sistema numerico decimale che era fondato sul numero delle dita delle due mani e era stato introdotto nel computo fin d'età preistorica e mentre un sistema frazionario aveva come riferimento la luna con le sue fasi, la luna questo astro che diventa tutto rotondo e poi si riduce fino a scomparire e si gonfia di nuovo. La scansione naturale del tempo con l'alternarsi del giorno e della notte. Ogni giorno cominciava all'alba e questo è singolare perché nella lingua egiziana non si dice mai giorno e notte ma sempre notte e giorno premettendo la notte al giorno. Però il giorno cominciava all'alba questo è certo per gli egizi e si integrava come presso tutti i popoli all'osservazione delle fasi lunari uniformando presto la durata del mese lunare ad un numero ideale costante di 30 giorni divisi in tre decadi. Quindi gli egizi non avevano il concetto di settimana che è un concetto lunare, una settimana e un quarto di mese lunare, ma di decimana, di decimana che è appunto la terza parte del mese di 30 giorni. I giorni egiziani avevano un nome come i giorni della nostra settimana, così come avevano un nome ai mesi e così come i faraoni davano il nome a delle ere che si succedevano e che consistevano nella durata dei loro regni. Questo fu la base del calendario civile istituito intorno al 3000 avanti Cristo quando pensiamo sia cominciato un vero e proprio stato unitario. Ma questa era la sintesi di almeno due distinti calendari preistorici, plausibilmente uno del nord e possiamo immaginare come punto di osservazione Menfi con la vicina città di Eliopoli, il cui nome la dice tutta perché in greco Eliopoli vuol dire la città del sole e il sud invece sul tropico. dove c'è Aswan. E naturalmente furono diversi i riferimenti naturali e astronomici. Il calendario del nord possiamo chiamarlo solare, ricordiamoci il punto di osservazione fu probabilmente dell'idea di Eliopoli che faceva cominciare l'anno al solstizio invernale. Infatti c'è una festa che si riferisce a quell'evento che si chiama la nascita del sole e che è una delle denominazioni del capodanno, dell'inizio dell'anno egiziano. Questo è dovuto ad osservazioni che la ricostruzione della volta celeste ha proiettato all'indietro e che riconoscevano sicuramente nella volta stellata e specialmente nella via Lattea un corpo femminile come vediamo qui riprodotto al fondo di un sarcofago. Difatti il cielo in egiziano è un'entità femminile, una dea, la dea Nut, nel quale sembrava di avere osservato millenni di anni prima che cominciasse la civiltà faraonica che fosse inghiottito dalla bocca di questa dea all'equinozio di primavera, per esserne invece partorito al solstizio invernale, a seconda delle diverse altezze sull'orizzonte. Il periodo intercorrente di 272 giorni corrisponde esattamente alla durata della gestazione umana. Questo dunque poter essere il calendario solare elaborato nel nord dell'Egitto, vicino a quella che sarà la città di Menfi. Il calendario del sud, che noi potremmo chiamare sotiaco, associò invece presto l'inizio della piena del Nilo, appunto come ho descritto prima un fenomeno imponente, all'altezza della prima cateratta, con l'apparizione di una stella, una stella di grandissima luminosità e forse ancora più luminosa nel passato, che tutti gli anni aveva una scomparsa periodica, perché scendeva sotto l'orizzonte, di circa 70 giorni. Questa stella è quella chiamata dai latini sirio e dai greci sotis, con un nome derivato dall'egiziano, per questo si parla di calendario sotiaco e soprattutto della levata sotiaca di Sirio, cioè l'apparizione di questa stella dopo un periodo di 70 giorni. Che cosa ha di particolare questa riapparizione? Il fatto che essa coincideva con l'inizio della piena del Nilo e quindi dava un riferimento fisso per contare i giorni intercorrenti tra i due momenti. Presto la connessione tra, come vediamo qua nella volta celeste, la costellazione di Sirio, di Orione, e nella veduta successiva la stella Sirio, questa stella luminosissima, che è alla base appunto del calendario sotiaco, ebbe uno sviluppo mitologico durante il terzo millennio, quando la stella Sirio fu associata alla dea Iside e la costellazione di Orione al dio Osiride. Iside, appunto, la sposa soccorrevole nei confronti del marito. E la stella Sirio che si trova nella costellazione del cane, come qui si vede, di qui si parla anche di calendario canicolare. Secondo questo calendario, l'inizio dell'anno avveniva invece nell'estate, ossia nel mese di luglio. La composizione dei due diversi calendari, e forse anche di altri, quello del nord e quello del sud, comportò delle modificazioni e anche delle trasformazioni che diedero un significato diverso alle osservazioni precedenti. Difatti, l'anno civile ebbe come inizio quello dell'anno meridionale, ossia il mese di giugno-luglio, ma mantenne i nomi dei mesi che erano stati elaborati all'interno dell'anno solare, i quali così si trovarono ad essere spostati rispetto a quella che era la loro posizione originaria e quindi il loro significato, che era la base del nome che avevano ricevuto. Quindi non ci fu più una corrispondenza tra nome ricevuto e la funzione dei mesi. L'osservazione degli intervalli tra questi fenomeni astronomici, sia quelli che fanno parte del calendario solare, sia di quelli del calendario sotiaco, portò molto presto a riconoscere la durata dell'anno in 365 giorni, divisibili in 12 mesi, più o meno il numero delle lunazioni, che furono fissati nella loro durata uguale di 30 giorni, aggiungendo poi 5 giorni per completare il numero di 365. Sono appunto i 5 giorni che mancano per fare l'anno, qua vediamo un confronto dei due calendari. I 5 giorni che, come li chiamarono i Greci e Pagomeni, stanno sopra l'anno, ossia non fanno parte dell'anno vero e proprio. Sono giorni che non dovrebbero esserci. Senza tenere conto che l'anno reale è più lungo di un quarto di giorno, cosa che gli egiziani avevano immediatamente o quasi percepito. E quindi questo anno non era rigido, ma ogni quattro anni scivolava di un giorno. E questo gli egiziani lo permettevano senza che mai abbiano cercato dei correttivi. I ritmi agricoli, che erano stati associati a entrambi i calendari, persero così gradualmente una corrispondenza con la realtà dell'anno, la realtà naturale e fisica, durante quello che è chiamato il ciclo sotiaco, ossia il periodo intercorrente per che il calendario che si muove di un giorno ogni quattro anni, arretrando nell'anno, abbia compiuto il ciclo intero di 460 anni, in modo da arrivare di nuovo al punto di partenza. Oggi sappiamo che alcuni egiziani tenevano anche il conto di queste false corrispondenze, perché il capodanno non corrispondeva più con l'inizio della piena e la levata eliaca di Sirio. Di conseguenza, se noi possediamo delle annotazioni precise, possiamo calcolare a ritroso il momento preciso in cui queste osservazioni furono fatte e registrate. Il calendario civile era naturalmente importante sia per un numero di feste, sia anche per segnare la durata dei regni dei singoli faraoni, e fu mantenuto parzialmente in uso anche un calendario lunare per feste specifiche riferite all'astro notturno, cercando a volte dei ponti in modo da farle funzionare per entrambi i calendari, sia il calendario civile, sia quello lunare precedente, più antico. Il giorno di luce fu diviso in tre parti, normalmente la mattina, il meriggio e la sera, mentre la notte era divisa in dieci parti, ancora qui il sistema decimale, più due crepuscolari, dieci parti che furono in qualche modo correlate ad una stella culminante durante la notte, stella decanale, e mediante l'elaborazione di tavole che ci sono pervenute casualmente come decorazione sotto il coperchio dei sarcofagi, come se fosse la volta del cielo che copre appunto la spoglia umana come una notte, si poteva in qualche modo conoscere la partizione della notte in cui ci si trovava. Più tardi, similmente, questo sistema di dieci ore notturne, più due, fu ribaltato anche sul giorno, in modo che si arrivò alla giornata di 24 ore, che è quella che anche noi dobbiamo agli egizi. Soltanto l'invenzione della clessidra d'acqua intorno al 1500 a.C., 3500 anni fa, permise di misurare la durata diversa delle ore e quindi di indicare il numero di quelle diurne e notturne che variavano nelle diverse stagioni, mentre inizialmente variava soltanto la durata e non il numero delle ore. Il difetto riscontrato dal calendario egizio non provocò mai alcun tentativo durevole di correggerlo, ad esempio come facciamo noi con un anno bisestile. Questo fu tentato una volta dal decreto di Canopo del 238 a.C. Una coppia intatta di questo decreto fu trovata poco prima dell'inaugurazione del canale di Suez dall'Epsius, nelle vicinanze dello stesso canale. Soltanto i romani, all'inizio del principato di Augusto, nel 25 a.C., imposero l'introduzione di un giorno perché il calendario cessasse di ruotare nell'anno. Si sa che i riferimenti astronomici furono fondamentali per tutta la civiltà egizia. Vediamo ad esempio le tre piramidi di Gisa della Quarta Dinastia, rispettivamente da destra a sinistra di Cheope, che è Frenemicerino, che qualcuno ha voluto anche correlare con la cintura di Orione, cosa che potrebbe anche essere vera senza che questa contenga ovviamente nessuna implicazione particolare. Il grande tempio di Abu Simbel, come si sa, era impostato in modo che nei due equinozi potesse ricevere nel suo fondo i raggi del sole a illuminare le statue del faraone. Il tempio di File, invece, che si trova appunto vicino ad Aswan, era orientato verso sud, il luogo donde originava la piena. E non mancano anche riferimenti alla stella Sotis di cui abbiamo parlato, la stella Sirio. Ad una stella è pure riferita la grande piramide a gradoni di Saccara, quella che ha inaugurato la sequenza delle piramidi nella Terza Dinastia. Qui il riferimento è sicuramente dato dalle stelle temperature, ossia dalla stella polare con quelle circumpolari che appunto non muoiono mai. Infine, è fondamentale per la ricostruzione della cronologia egiziana e anche per la comprensione dello stesso calendario, un trattato scritto nel III secolo d.C. da un grammatico, Censorino, il quale appunto ci ha informati che nel 139 d.C. il Capodanno e l'inizio dell'anno Eliaco, della levata Eliaca di Sirio coincidevano. E questo ha permesso di avere un punto di riferimento per tutti i calcoli a ritroso permessi dalla scoperta di nuovi documenti. La prima edizione a stampa di questo trattato di Censorino del Dio Natale, Natali, che fu peraltro letto durante tutto il Medioevo, si situa alla vigilia del Cinquecento e da allora è cominciata la ricerca a ritroso sul calendario egizio di cui ho detto all'inizio, parlando dell'astronomo Biotto. Grazie per l'ascolto.